Venghino signori, venghino! Che magnifica giornata, non trovate? Cielo turchese, numi sporadiche, il sole, il sole, mai fu visto il giorno più bello. E' tempo d'affari, chi sono chiedete, da dove provengo? Ciò ha importanza? Controllate prima la mia mercanzia, esatto messeri, graziosi d'ave, quel che vedete vi stupisce, e come commerciante, ciao mi lusinga, il prezzo è basso, credete a me! Una brezza fresca in fondo a destra, due novità al costo di una, all'oscuro dissipato a favore della sapienza. Ciò non vi affascina, graziosi amici? Cosa necessito per questo tesoro? Che chiedi il cambio a favore di ciò? E' semplice, Fagotti, più di quel che crediate, imitatemi! Prendete la corda, stringetela bene, salite fino alla luce del sole, un'unica raccomandazione, il collo, bambini, e non il piede! Grazie! Grazie!